allora ditelo che arrivo cazzo non dopo quando ormai in terra e che cazzo luigi era spenta e allora e dillo no o in 3 no ma il montesa non pesa dico montesa non pesa in 3 perché non lo scuolo no non non e e a a a a a a a a grazie